carissimi fan grazie di vero cuore per le emozioni che mi avete dato durante quest'anno durante i nostri concerti e le nostre serate fatti insieme e che dire grazie di vero cuore al mio impresario Demis Piazzolla un bacio a Demis a te famiglia la mia etichetta isografica e tutto lo staff della GS record al mio fonico number one Marcello Ere ciao Marcello un bacio a te famiglia anche a te al mio tasterista biscottino ciao Raff ragazzi vi voglio bene tutti quanti auguri di buon Natale e buone feste dal vostro Nino Fiorello ciao